La data del 19 marzo è ogni anno un giorno speciale, un po' per tutti in famiglia, per i papà in particolare e per quelli di Zanè un pizzico in più, perché al patrono di San Giuseppe si appianca l'attesa giornata dedicata alla grande sagra annuale che porta le giostre e le altre attrazioni ludiche della Luna Park nel cuore del paese, ma anche altri eventi in centro storico organizzati da proloco con il patrocinio del comune. La fattidica data di festa per gli zanedienzi e per i vicini di casa casca nel 2023 di domenica, uno stand gastronomico ben fornito come tradizione sarà a disposizione di tutti, con proposte culinarie per ogni gusto e per ogni età. Si parte dal mattino di domenica dalle 10.30 tra balli, canti dei tempi andati, show di giocolieri cincensi, trucchi multicolore per i bambini, poi la curiosità intorno agli esempi dei mestieri antichi proposi in alcuni stand allestiti per la grande occasione. Dopo l'aperitivo lungo il corso cittadino che precede l'ora di pranzo, appuntamento doppio al pomeriggio con gli spettacoli dedicati a Geo, il giocoliere agli artisti del fuoco. Sarà anche la domenica utile per visitare la mostra di pittura organizzata dal comune intitolata Sopra e sotto il limite degli alberi.